Ciao a tutti, mi chiamo Nicole e sono la figlia di Danilo Scherer dell'azienda vitivinicola Le Closier. La nostra è una piccola azienda a conduzione familiare situata nel comune di Jovansan. Lavoriamo 4 ettari e mezzo di vigne che si suddividono in 35-40 mila bottiglie. Di queste 35-40 mila bottiglie riusciamo a diversificare in ben 9 qualità di uva differenti, quindi 9 etichette differenti abbiamo presenti in azienda. La nostra è un'azienda a conduzione familiare che lavora nel rispetto della natura del territorio, vuol dire che usiamo pochissimi prodotti chimici sia in cantina che in vigne, anche zero diserbanti e pochissimi trattamenti. Sono anche associata a ConfCommercio Valle d'Aossa e nella giornata del 28 aprile, giornata della ristorazione, parteciperò allo show cooking presso Maison Loisir. Grazie. Grazie.